Questa è la fine del video Ask Commenti al caldo scullo che abbiamo appena girato Per me mi è piaciuto Per te? No, è scusato A me è stato divertente Lui era la comparsa che ogni tanto compariva E ci faceva morire dalle risate Perché fa tutte cose stupide Quindi, bene Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato Hello bella gente e benvenuti in questo prossimo video Sul mio canale, io sono Irene E oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video Dopo tipo un mese che non portavo nulla Quest'oggi siamo nel video Ask da Ischia Infatti siamo qui fuori nel giardinetto Insieme a mia sorella Perché andremo a rispondere alle domande Che mi avete fatto proprio voi Nel mio canale di gameplay Useremo il telefono di mia sorella per leggere le domande E quindi poi andremo a rispondere E niente, prima di iniziare se volete altri video Ask in compagnia O anche da sola Fatemi sapere qua sotto nei commenti E lasciate tanti mi piace Lei intanto è mia sorella Presentati Sono Viviana Boiano Vengo da Napoli Non è normale C'è mio fratello da lì Anche fa le facce Vabbè, lasciamo stare Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale Attiva la campanellina E goditi i video Andrò a leggere man mano le domande E dirò chi ce le ha fatte Così appunto potrete saperlo Anche se penso che poi le metterò anche in sovraimpressione Così le potrete leggere insieme a noi Allora, la prima domanda che ci fa Francesca Kawaii Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è diventare una travel vlogger O più che altro viaggiare comunque per il mondo Il tuo? Il mio sogno è di diventare una star Che tutti mi amano Città che ami? Londra New York Amsterdam Los Angeles Miami Tutte le città americane New York Qual è il rapporto che avete tra fratelli? Li odio Molto complicato Li ammazzerò tutti Il giorno Muori Come state? Bene Sudati Piatto preferito? Pizza, lasagna, spinaci, polli polli insalata Hamburger, patatine, di tutto e di più Patatine e pizza Vivere senza studio o Netflix? Vivere senza studio Vivere senza studio Vi voglio bene Ciao Ciao Chiecca Ciao Torniamo bene anche noi Le prossime domande Ce le fa Max Fortunato Prima domanda Hai mai fatto finta di dormire Poi sei uscita? No Anche perché se dovessi farlo Dovrei uscire dalla finestra Ma dalla finestra non ci passo Mi dovrei buttare giù Una cosa un po' impossibile Quindi no No, non l'ho mai fatto Hai mai cercato su Google? Non possiamo dirlo Sei fidanzato? No No Se no, ammi qualcuno? No No Bella Max Ciao Le prossime domande ce le fa Fratix Prima domanda Qual è la serie che hai portato O che stai portando Che ti è piaciuto di più sul tuo canale? Allora La serie che praticamente ho portato O comunque portavo È stata la serie di Bulli Scholarship Edition Perché come sapete È il mio gioco preferito E anche se non è andato a buon fine Comunque Era una serie che mi divertiva davvero tantissimo Registrare, eccetera Per te invece Qual è stata la serie che ti è più piaciuta sul mio canale? Quella di Minecraft Qual è il tuo youtuber preferito A parte me e te stesso? Allora Soprattutto io Ultimamente sto seguendo parecchi youtuber americani Tra cui Elliot Choi Che portava principalmente vlog E magari Vi lascio il link nella descrizione Se me ne ricordo Per te Me contro te E infatti Alla cover personalizzata di Me contro te Se non fosse esistito a YouTube Cosa avresti fatto a 18 anni? Probabilmente Quello che fanno tutte le persone normali Ovvero studiare Ultima domanda Che non è una domanda Perché comunque Gesù è la risposta La serie vanilla è morta? Sì Perché mi si è cancellato il mondo Yeah Le prossime domande invece ce le fa Kemu Grazie mille anche a te Kemu per le domande Allora quanti anni hai? 18 9 La tua serie Netflix preferita? Sempre se ne guardi Si ne guardo E la mia serie preferita è Breaking Bad and Better Call Saul Hai animali? No Non abbiamo animali No però li vorrei avere Le prossime domande ce le fa Planeta Loco Da cosa nasce il tuo canale YouTube? Il mio canale YouTube è un misto tra Place Cioè il fatto che appunto gioco ai videogiochi E Noterin che è invece il mio nickname di Instagram Quindi mi piaceva come suonava Noterin Place E quindi ho deciso di usare quel nome lì Invece per te che cosa ne pensi dei video che faccio? Sono belli Molti Tu dietro la videocamera che cosa vuoi? Però sono molto belli Prossima domanda da Tommaso Ciao Tommaso Quanti anni hai? 18 9 Prossima domanda invece ce la fa Giovanni Cantante preferito? Miley Cyrus Spera è basso Le prossime domande Anzi la prossima domanda ce la fa Lexus Ciao Lexus Cosa hanno detto la tua famiglia in generale Quando gli hai detto che fai video su YouTube? Che buttavo il mio tempo A me niente perché io non gli faccio i video qui Poi la prossima domanda ce la fa The Mike Che ci chiede Qual è la tua più grande paura? Le botte Il fuochi d'artificio Il buio Non cattivo andare a panchini Poi le prossime domande invece ce le fa DavidPower77 Oppure DavidPower77 Ciao Che ci chiede? Il gioco preferito? Bullish scholarship edition O comunque Canis Cane made it Mentre il gioco schiferito Il mio gioco odiato Che cazzo sta a fare? Che cazzo sta a fare? Che cazzo non mi piace di campione Il mio gioco odiato invece è probabilmente tutti i giochi di macchine Quindi Need for Speed Queste cose qui E comunque i vari FIFA eccetera Perché non ci gioco Non mi è piaciuto insomma PS ti adoro Grazie mille zio Invece per te Gioco preferito Gioco odiato? Il gioco preferito è quello di aiutare i cani Che ne so I giochi Fare tu il cane Oppure da qualche altra parte A vera tu non mi conosci Però Poi il gioco odiato è Barbie Non mi è piaciuto Bene Quindi per questa edizione di Ask Eerie Può essere tutto Io vi invito a seguirmi su tutti i social Per vedere dei prossimi episodi Ciao Comunque scherzo a parte ragazzi Spero che questo video delle domande vi sia piaciuto Se cosa è stato Mi dà ciò un bel pollicione Su commentare Iscrivetevi al canale Se ancora non l'hai fatto E niente Ovviamente Se volete altri video del genere Vi invito a scrivere altre domande Qua sotto nei commenti E appunto Farmele Sia magari da sola Sia per la mia sorella Eccetera Così faremo prossimamente Un prossimo video Quando ce ne saranno abbastanza E lo caricheremo Sempre su questo canale E niente Vi invito come al solito A seguirmi su Instagram Sul gruppo di Telegram E da tutte le altre parti Che trovate giù nella descrizione E niente Io vi invito A guardare i prossimi video Bella Ciao